Un'esperienza educativa e civica rivolta a tutti i giovanissimi studenti. Si tratta della costruzione di un organismo rappresentativo eletto, con la finalità di promuovere la partecipazione e l'attivismo civico dei ragazzi su tutti i temi che interessano questa piccola grande comunità. L'occasione è ottima per introdurre elementi conoscitivi sui sistemi elettorali, i ruoli dei partiti, che nell'esperienza specifica non esistono, ma il cui ruolo costituzionale sarà oggetta di studio nei previsti seminari. L'esperienza ha visto protagonisti i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Villa Verrocchio di Montesilvano e l'Associazione Demos. Basta spiegare i principi costituzionali sulla democrazia, la rappresentanza, la partecipazione, per far capire loro ciò che li aspetta. Certo è che poi nel mondo reale purtroppo anche i principi costituzionali traballano moltissimo, ma noi gli spieghiamo anche questo. Gli diciamo anche che la Costituzione purtroppo molto spesso non è attuata e che abbiamo bisogno di fare in modo che le giovani generazioni si dedichino ad attuare i principi che noi gli stiamo insegnando. Come la scuola ha recepito questo messaggio dell'Associazione e come lo stanno recependo soprattutto i ragazzi? Allora hanno recepito molto bene i ragazzi questo messaggio. Per loro è un modo di partecipare alla comunità della scuola, ma non solo perché poi svolgendo anche un programma elettorale che è il perno di tutto il progetto, loro si occupano sia della scuola ma anche del territorio. Quindi c'è questa partecipazione di solidanza attiva che riguarda non solo la comunità scolastica ma anche il territorio. E poi questo fatto adesso di fare oggi il seggio è un modo veramente di maturare, di prendersi una responsabilità che li preparerà anche per il loro impegno futuro. Volevo anche ringraziare la preside che ha creduto in questo progetto e ci ha permesso di portarlo avanti in questo triennio dando la massima disponibilità. Beh, ho imparato comunque i valori delle votazioni perché vivendola di prima persona a scuola comunque è stata una bella esperienza anche per me. È una bella esperienza anche prepararci a quello che poi sarà veramente una cosa che comunque faremo, ovviamente noi saremo dei votanti in futuro però comunque questa cosa è una cosa che comunque è anche una bella esperienza perché è comunque tutto un percorso questo Consiglio di Istituto. Per le lezioni più importanti sì, comunque noi stiamo facendo una cosa alle prime armi, diciamo così, ma è una cosa che comunque ci insegna e ci fa capire cosa c'è nel mondo futuro e cosa ci prepara alla crescita futura, diciamo così. Grazie.